Musica Ben trovati, ben ritrovati a Tech Magazine, rubrica settimanale del Polo Tecnologico Lucchese. Oggi sono in compagnia del collega Nico Cerri, che saluto, ciao Nico. Ciao Valeria, ciao, ben trovati. Siamo qui insieme per parlare di un percorso formativo organizzato dal Polo Tecnologico Lucchese in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest che tratterà i temi legati alla gestione economico-finanziaria di un'impresa. Potremmo definirlo un mini-master modulare, è corretto Nico? Sì, è corretto, sono quattro gli argomenti che fondamentalmente verranno affrontati in questo percorso che sono l'analisi di bilancio che si terrà adesso a dicembre, il calcolo del corretto prezzo di vendita, quindi il tema è come sviluppare un preventivo di vendita, la gestione finanziaria dell'impresa è il terzo modulo, riguarda quindi il tema della liquidità finanziaria e l'ultimo tema è il budget e l'analisi degli scostamenti, quindi si ragiona in questo caso gli strumenti di programmazione della vita dell'impresa. Ecco, perché il mini-master è definito modulare? Perché è articolato, sì, come dicevo, in quattro temi, in quattro moduli che hanno la particolarità che possono essere frequentati l'uno indipendentemente dall'altro a seconda delle esigenze degli imprenditori, quindi se vuole può frequentare tutto il percorso altrimenti soltanto i moduli che gli interessano, anche uno solo per esempio. D'accordo, dunque il primo modulo tratterà l'argomento analisi di bilancio, come verrà esploso l'argomento, quali saranno i contenuti delle lezioni? Allora, i contenuti fondamentalmente saranno quelli legati ai capisaldi dell'analisi, quindi saper leggere i dati perché ogni imprenditore ha una struttura aziendale diversa, quindi ci sono degli imprenditori che hanno aziende complesse in cui ci sono già degli esperti che sono in grado di redigerlo un bilancio oppure ci sono imprenditori che hanno strutture più piccole e quindi si affidano a professionisti esterni. In entrambi i casi l'obiettivo è quello di fornire all'imprenditore, noi pensiamo tanto anche alle start-up, quindi imprenditori molto giovani, gli strumenti di base per poter ragionare o con gli esperti in azienda o con i professionisti esterni con una maggior consapevolezza, una maggior padronanza di quelli che sono gli strumenti per la redazione del bilancio. Quando si terranno le lezioni? Allora, di questo primo corso, il 2, il 7 e il 16 dicembre. Gli altri tre moduli saranno realizzati, saranno erogati moduli tra gennaio e marzo dell'anno prossimo. Volevo precisare una cosa, che tutte queste attività è importante evidenziare che avranno una metodologia molto pratica, quindi si tratterà non di lezioni di tipo scolastico, senza nulla togliere, ma saranno più simili a esercitazioni, quindi una dinamica molto interattiva, con dei casi pratici, con anche attività dirette su quello che può essere il tema legato all'impresa dell'imprenditore presente. E per questo motivo il fatto di fare in presenza il corso è ancora più importante, giusto? Sì, è fondamentale, perché tutti e quattro i moduli si terranno appunto in presenza al polo. Il primo modulo, quello dell'analisi di bilancio, sono tre lezioni, le altre moduli sono di due lezioni ciascuno e saranno tutti appunto in presenza. In presenza. Il corso, lo ricordiamo, è gratuito, come tutti i corsi che facciamo, è necessario però iscriversi, quindi compilare un modulo di adesione che è possibile scaricare accedendo al sito del Polo Tecnologico Lucchese, non peggio, troverete proprio l'informazione legata al minimaster, da lì potete accedere al modulo di adesione. Mi sembra che si sia detto tutto, giusto? Speriamo di avere tante adesioni, nel caso, e i posti non sono tantissimi, ma ci farebbe piacere pensare anche di poterlo organizzare una seconda edizione. Di poterlo riproporre. Bene, Nico, ti ringrazio per il momento e a tutti voi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.